A un mese dall'entrata in vigore delle tariffe unificate a livello regionale per il trasporto pubblico su gomma scattata il 1 luglio, la Regione ha annunciato una serie di aggiustamenti a partire dal 10 settembre. Tra le novità il carnet da 4 biglietti extraurbani con sconti dal 10 al 25%, l'integrazione degli abbonamenti urbano ed extraurbano, l'abbonamento studenti da 10 mesi, un ulteriore sconto del 5% per le aziende che acquistano almeno 20 abbonamenti annuali per i dipendenti e lo sconto sull'abbonamento annuale extraurbano. E poi c'è l'Isee. Chi ha un Isee sotto i 36 mila euro può avere un abbattimento abbastanza importante che sta tra il 18 e il 20%. Così come è possibile detrarre dalla successiva denuncia dei redditi, questa è una previsione dell'ultima legge di stabilità nazionale, e il 19% dalle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti indipendentemente dall'Isee. Gli aggiustamenti predisposti dopo il mese di rodaggio delle nuove tariffe riguardano anche la revisione dei livelli tariffari Pegaso, l'attivazione di un piano anti-evasione con personale qualificato e la riduzione del maggior costo del biglietto acquistato a bordo nelle fasce sopra i 40 chilometri. Noi siamo convinti in questo modo di essere andati incontro a quelle che sono state le maggiori strutture, le maggiori criticità che ci sono state evidenziate, spesso attraverso il nostro numero verde, attraverso le mail, attraverso segnalazioni dei comitati e soprattutto attraverso anche le segnalazioni degli amministratori pubblici, dei sindaci che si sono fatti interpreti delle situazioni che si erano andate determinando. La comunità tariffaria regionale ha equiparato le tariffe urbane a quelle del resto d'Italia e quelle extraurbane a quelle chilometriche dei treni regionali e la sua entrata in vigore era prevista dalla gara unica per il TPL, poi bloccata dai ricorsi, già nel 2015. Alcuni effetti della gara sono stati anticipati dal contratto ponte sottoscritto da Regione Scarlo One.